In quei facciamo lo duro a Portigale. 5 e 20. In Portigale, 150 g di succo, 250 g di farina, metto del rodolio d'oliva o di vera sull'ail, 2 uve, metto la bustina del lievito, una puma per decorare. Mentre le uve a vello succo. Aggiungere l'olio e la polpa di Portigale giù sulla davanti. Mentre la farina a vello lievito e verserla in un impasto. Vira bene, aveva una frusta finché accorre il papì del grumo. Prepara una placca di forno e versa in tutto l'impasto. Taglia la puma piccita e lecce e forma in una bella flusca. E chiudere il forno a 180 gradi e li seguire per 20-30 minuti, finché accorre la torta e ben durare. Tarte là, chi è buona!